Vignola è una piazza per noi anche bancariamente molto interessante, è un paese molto radicato dove c'è un benessere importante, dove ci sono molte aziende importanti, quindi penso che noi faremo bene il nostro mestiere. La filiale è per noi un punto imprescindibile, abbiamo sempre pensato che oggi il cliente ha bisogno di riferimenti che non sono ovviamente solo digitali e la realtà della filiale è diventato un centro relazionale, come diciamo sempre, ma è necessario. Abbiamo fatto diverse indagini, al 90% piccola e media impresa e famiglie vogliono comunque una filiale con un presidio territoriale vicino o abbastanza vicino, quindi non puoi servire famiglie e piccole imprese a distanza. Ci fa molto piacere, diamo il nostro benvenuto alla Banca di Bologna, a Vignola siamo sicuri che sicuramente sarà un arricchimento per il nostro territorio, mi piace anche sottolineare il fatto che in un periodo in cui molti servizi, molte filiali chiudono, invece ci sia una filiale, una banca, un istituto che ha voglia di aprire un punto, una presenza fisica nella nostra città, un punto di incontro per i cittadini e un presidio anche per il nostro territorio. Sono molto contenta infatti di far parte di questa nuova squadra che siamo per la prima volta qui a Vignola, è la seconda filiale che ha aperto fuori dalla provincia di Bologna dopo quella di ieri di Salvignano sul Panaro, io sono qui a Vignola, chi verrà in filiale sarà la prima persona che incontrerà, sono io, quindi vi aspetto numerosi, venite a conoscere la nostra banca e me e i miei colleghi, vi aspettiamo.